ma che fai aiuto? All'alasso è bello, all'alasso ma porca mignotta devo finirci a essere il 91 ma che sei? Io sono il Marchese, sono il padrone di tutte le botti, io te licencio pure adesso, vaffanculo ma vaffanculo tembriacone ma che fai? Spiglia il Marchese e lascia, e lascia, e te bagno una mano io sono il padrone di tutte le botti, me ne scolo, ma la faccia di tuo padre, di tuo nonno e di tutti i ladracci che è sempre un termino mio, sono il Marchese io, sono il padrone di tutto ecco lì, ecco lì, che c'è oggi? Io stavo in cantina, stavo tanto bene, micio micio mi stavo a scolare un vinello del 91, quando dice, vieni che c'è tutta la famiglia c'è che fate? Che vi siete riuniti? Chi stava a discutere? Tenga Tenga Che è una collanina? Ma che fa? Che fai? Deve pregare Preghi Preghi? Chi stava a pregare? Ma io c'è il morto? Nomine Patris, e te figli, e te spirito santo Gloria a Patris, e te figlio, e te spirito santo Santo Seguo Chi è lei, chi è lei so Chi è lei so Cristo è lei so Santa madre Santa Maria Mater Dei Santa Maria Mater Dei Mater Veneranta Mater Pellicanta Mater Pellicanta Mater Pellicanta Mater Cassissima Allora per la Nobis Mater Cassissima Mater Pellissima Mater Pellissima Mater Pellissima Mater Divina Grazie Mater Dio Anni Mater Benedetta Madre nostra Madre nostra Madre nostra Madre nostra Madre nostra Madre nostra Madre 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 Grazie a tutti.